Nel momento in cui si è trovato muso a muso col mici, si è leccato tutto il musino. Anche lui dà in piedi, si sbagliano tutte le zampe. Vicky, ho inserito la femmina, si è girata subito andata via. Mi parte lo schizzo, la follia. Quando lui si è seduto, vuol dire che ha reagito al segnale. C'è l'indifferenza, stavo di qua per cazzo, l'altro pure. Si sta sbavando tantissimo quando è entrata. E quell'altro annusa. Anno a vedere perché è anche curiosa, mi fanno controllare cosa annusa, sarà interessante, però da schiaccio. Quell'altro piscia. C'è un'altra parte, la manca, tutto intorno, la manca. Ecco, avete visto che si sono incontrati, si sono annusati, poi uno da una parte, uno dall'altra. Guardate, Miki con la testa girata di là, è lei che annusava per terra. Miki, c'è a vittire. Vieni, Miki. Cane stressato? Avete visto come si è? Ancora. Ancora. Adesso si. Eh, sto. Lo fai dalla parte giusta, no. Poi sono anche chinata io adesso su di lui, eh. Dove è uscito? Che pelo, che c'è, è meraviglioso. Eh, no, si, è da spazzolare, che tu so. Lui è un pelosone. Allora, dici qual è il, cosa, tu cosa pensi? Cioè, io penso che lui sia uno sociale, perché mi vede con lei, è una cazza, vive in funzione di dove sono io. Mi amichi? No, io credo che siamo noi due c'è. No. Però, vedete come i cani che sono abituati a stare in branco, perché lui vive, non dico al 100%, però, comunque, sono abituati. Grazie. aspetta la prima volta è sempre il kelp che va in mezzo e poi dormiamo non è madre, molli andiamo a cosa fare piccolina con la molli guardate come quando ce l'avete in mezzo non lo sapete anche guardate vedete la com'è grazie